Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova lezione. Oggi insieme andiamo a fare un allenamento funzionale. È una lezione total body, quindi andiamo a lavorare tutti i gruppi muscolari. Per poter fare questa lezione ci occorrono una coppia di manubri e un tappetino. Il lavoro che andiamo a fare è un lavoro completo. Si parte con il riscaldamento nella fase di addominali e poi andiamo a fare sia esercizi a corpo libero che con i manubri. Siamo pronti per partire? 3, 2, 1, vai con la sigla! Siamo pronti per cominciare questa lezione. Partiamo con una parte iniziale di riscaldamento dove facciamo alzare la frequenza e alzare la temperatura. Si parte con degli esercizi a corpo libero. Partiamo con uno skip classico che potete fare ovunque. 3, 2, 1, vai! Sulle ginocchia siamo partiti! Se non sei iscritto al canale di YouTube, iscriviti subito perché ogni settimana ci danno tantissimi allenamenti nuovi. Forza! 30 secondi da adesso e si parte con questa super lezione di oggi. Vai! 20 secondi! Go, 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 go! Vai, vai, vai! Dagli veloci! Forza! 20 secondi! Sulle ginocchia! Via! 10 secondi da adesso! Aumenta! Vai, 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 vai! 4, 3, 2, 1, stop! Sciogli le gambe! Un bel respiro! Si parte con un jumping jack sul posto! Forza! 3, 2, 1, Vai, go! Apri e chiudi! Andiamo! Forza! Cercate di chiudere e aprire! Veloci! Siamo partiti! 30 secondi! Andiamo, andiamo, andiamo! Forza! Vai, go! 20 secondi! Vai, più veloci! Aumenta! Dai, 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 su! Su le braccia! 8 secondi! 4, 3, 2, 1, stop! Sciogli! Adesso facciamo delle circondizioni del collo! Quindi, gambe divaricate! 3, 2, 1, vai! Abbiamo anche il collo! Oggi facciamo anche i percizzi funzionali! Questa lezione completa! Vai dall'altra parte! Cerca di buttare sempre le spalle! Via! Forza, forza, forza! Cambia di nuovo! Via! 20 secondi! Vai, cambia! Ok! Ottimo! 10 secondi! Via, via, via! Espira! 3, 2, 1, stop! Ok! Adesso facciamo dei slanci in avanti e allunghiamo bene la gamba! 3, 2, 1, forza! E su e allunga! E torna! Vai! Questo! Vai, su! 30 secondi! Via! Forza! E vai, allunga! Go! Parti fuori! E... 20 secondi! Forza! Vai, vai, vai! Oh, allunga! Su! Vai, su! 10 secondi! Forza! 8 secondi! 3, 2, 1, stop! Recupera! Sciogli le gambe! Adesso facciamo uno scaldamento per i polsi! E uno skip laterale! 3, 2, 1! Vai! Riscaldiamo bene i polsi! Forza! Facciamo delle circolizioni perché andiamo a fare degli esercizi dove poggiamo le mani a terra! Quindi andiamo a riscaldare bene! Forza! Questo! Vai! E' importante secondo me che possiamo fermare i polsi quando facciamo gli esercizi! Dai! Questo! Bravissimi! Vai! Respera! Forza! Sono dei piccoli cerchi! Con le mani andiamo a fare! Vai! 4, 3, 2, 1, stop! Un bel respiro! Ora facciamo uno skip e ci muoviamo di lato! Quindi facciamo uno skip lateral! 3, 2, 1, vai! Su le ginocchia! E riparto! Go! Forza! 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 Dai! Via! 30 secondi! Vai! Vai! Più veloci! 20 secondi! Andiamo! Su le ginocchia! Più veloci! Vai! Dai che ci siamo! 10 secondi! Go! Più veloci! Dai! 7 secondi! 4, 3, 2, 1! Recupera! Respira! Ancora un interesse di riscaldamento! Andiamo a fare questo! Una torsione! Poi si parte con gli addominali! Vai! E vai! Vai! Questo! Forza! Uno! Vai! Gira di lato! Andiamo a riscaldare anche i muscoli dell'anca! Forza! Go! E... 30 secondi! Questo! Vai! Via! Go! Vai! 20 secondi da adesso! E... E... Forza! Forza! Ancora! Go! Vai! 10 secondi! Vai! 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 3, 2, 1! Ok! La parte iniziale è finita! Ora schiena a terra! 10 minuti di addominali! Cambiamo ogni minuto! Ogni 45 secondi! Un esercizio! Va! Il primo è un crunch! Classico! Quindi stacca le squadre! Poi... Stacca le squadre! Forza! Facciamo un ottimo lavoro! Go! Go! 1! Sali! Respira! Forza! Stacca bene le spalle! Vai! Via! Ancora! E... Giù! Respira! Stacca! Vai! Ancora! Forza! Vai! Più veloci! E... Go! Stop! Recupera! 8 secondi! 4! 3! 2! 1! Vai! Plank sulle braccia! Quindi... 40 secondi adesso! Forza! Quando lo dico io andiamo a toccare i bici di maniera alternata! Adesso guarda bene! Tu puoi sinistra! E tu puoi destra! Braccio sinistro e braccio destro! Vai! 20 secondi! Forza! Vai! Ancora! Poi prendiamo un manubrio e facciamo un crunch! Con un manubrio in mano! Un manubrio in mano! Ancora! Ancora! E... 3! 2! 1! Un manubrio in mano! Schiena poggiata a terra! Un bel respiro! Vai! Sali! 3! 1! G! 1! 1! Sali! 2! 5! 3! 2! 6! 6! 2! 7! respira 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 3 2 vai ottimo! prendiamo le manubri vai 3 secondi 3 4 3 2 1 via forza vai 30 secondi forza forza 15 secondi dai forza lo rubate respira che ci siamo 3 2 1 giù ok adesso gambe divaricate ci facciamo un crunch alternato ok con le gambe questo via e salgo giù forza salgo dai alterna e giù vai e giù dai respiro go forza e sali vai andiamo più veloci e forza tocca giù la testa incrocia forza forza andiamo e stop recupera respira 3 2 1 gambe a yoga e via salgo vai 30 secondi forza 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 perciò perciò vai ti perciò 3 2 1 stop ora facciamo un crunch con le gambe su 3 4 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, giù, vai, forza, via, vai, forza, dai, 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 respira, testa appoggiava, vai, ancora, e sali, respira, e sali, respira, stop, recupera, ora ci vediamo al libretto, ci facciamo un tax up al libretto, ci chiudiamo bene, portiamo le ginocchia al petto, e go, vai, chiuditi, a lunga, forza, e a lunga, 30 secondi, una più, bene, 20 secondi, forza, forza, ehi, vai, due due due, vai, forza, 4, 3, 2, 1, stop, ok, il prossimo esercizio di là fuori, un plank laterale, 3, 2, 1, vai, andiamo su, respira, forza, 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 ok, dopo il plank laterale facciamo una a sinistra, una a destra, e poi dopo gli spiego andiamo a fare un riscaldamento funzionale, quindi faremo un po' di squat, un po' di push up, e poi partiamo con il lavoro a circuito, va bene, va bene, vai, cambia, cambia lato, forza, e su, andiamo su, vai, 10 secondi, forza, 4, 3, 2, 1, e stop, ok, recupera, adesso, andiamo su in piedi, abbiamo fatto, un riscaldamento funzionale per far alzare la temperatura, la fase iniziale di addominali, ora serve un riscaldamento funzionale, questo che andiamo a fare gli esercizi che sono squat, barkis, piegamenti, eccetera, esercizi funzionali, dobbiamo riscaldare il nostro corpo, quindi partiamo con 35 secondi di squat, per riscaldare bene le gambe da parte sotto, e poi ci facciamo dei push up, piegamenti sulle ginocchia, senti per iniziare, 8 secondi, partiamo con una serie di squat, una serie di piegamenti, e poi vi vado a spiegare il circuito che andiamo a fare oggi, ok, vai, siamo partiti ragazzi, via, parti squat, forza, go, scendi, e sali, via, let's go, let's go, 30 secondi, vai più veloce adesso, aumenta, vai, e giù, su, vai, 20 secondi, forza, 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 e aumenta l'intensità, dai, 10 secondi da adesso, go, 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 forza, 4, 3, 2, 1, stop, forza, andiamo giù, 8 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, push up sulle ginocchia, via, go, go, 40 secondi, vai, e salgo, 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 30 secondi, vai, e 20 secondi, forza, 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 vai, vai, 10 secondi, vai, vai, ancora, e 4, 3, 2, 1, stop, sui piedi, allora, se ti stai allenando insieme a me, ti chiedo solo un favore, lascia un commento e un like sotto il video, è importante ragazzi, perché è importante, perché ogni giorno vi porto questi contenuti completamente gratis, senza guadagnarci niente qui sul canale YouTube, e tra una lezione, tra una personal e un'altra, quindi a volte di volte stanco, ma lo faccio solamente per voi, a costo zero, vi chiedo solo di lasciare un commento, perché mi fa piacere sapere che vi state allenando, così ogni settimana porterò 4, 5 lezioni qui sul canale, e basta un commento per sentirvi dall'altra parte, è importante, è importante, grazie, e adesso iniziamo con la nostra lezione vera e propria, quindi vi spiego cosa andiamo a fare, allora il primo esercizio è un barbis bottom, ve lo faccio vedere subito, quindi ci mettiamo con le gambe divaricate, da qui scendo giù in barbis, ritorno su, e rimango in posizione di squat, quindi con le gambe divaricate, sederino basso, e ritorno giù, ok? Sarebbe un barbis completo, e un'isometria in squat, quindi ritorniamo così, va bene? Questo lo andiamo a fare per 45 secondi, sono 4 esercizi, ogni esercizio dura 45 secondi, con 10 secondi di recupero, ok? Andiamo a fare i 3 giri di questo circuito, il primo esercizio è il barbis bottom, il secondo esercizio, guardate bene che andiamo a fare, è un re-naked roll, quindi ci mettiamo giù a terra, sui glutei, e andiamo a fare questo, 1 cambio, ok? 2 rematore, questo esercizio è importante per la schiera, il terzo esercizio che andiamo a fare è una bicicletta a terra, quindi finchiamo schiena a terra, e lavoriamo ancora gli addominali, andiamo a fare questo, da qui, ok? L'ultimo esercizio che andiamo a fare è un devil press doppio, un esercizio bello tosto, quindi guardate bene il devil press doppio, prendiamo la doppia di manubri, andiamo a terra, appoggiamo i manubri a terra, facciamo un push up, ok? Poggiate la pancia, manubri dentro, estendo completamente le braccia, quindi il movimento è questo, ve vi faccio vedere, da qui, andiamo giù, pancia a terra, manubri dentro, estendo i manubri stesi, tutti e due alle orentie, ok? Quindi abbiamo gli esercizi belli tosti, belli intensi, siamo pronti per partire con questo super workout di oggi, quindi lavoriamo 45 secondi di esercizio, abbiamo un burpees bottom, rimanete bene in isometria, è importante per non farci male, ok? E abbiamo tutti gli esercizi completi che vanno a lavorare, quindi multiarticolari, pronti per iniziare, eh? 8 secondi, burpees bottom, rimanete grove, francia a bicicletta e get in press doppio, vai, siamo partiti, go, blocca, giù, sali, blocca, giù, sali, blocca, respira, vai, blocca, 30 secondi, blocca, per te fuori, giù, sali, blocca, per te fuori, giù, sali, blocca, vai, giù, respira, sali, blocca, 10 secondi, giù, giù, respira, sali, blocca, forza, e fuori, giù, sali, blocca, ancora, parti, sbotto, stop, ok? 8 secondi, ci faccio con il ring che te lo riusco, 3, 2, 1, vai, oh, cambia, sali, torsione, gomito stretto, via, vai, respira, cambia, forza, giù, vai, e cambia, vai, forza, e vai, cambia, su, e cambia, ancora, vai, cambia, stop, bravissimi, respiriamo, andiamo giù a terra, battiamo con la bicicletta, pronti? 3, 2, 1, vai, go, e stacca, go, fare una torsione, allunga le gambe, andiamo, forza, forza, respira, giù, poggia la testa, recupera, vai, riparti, non dovete sforzare il collo, vai, 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 giù, rilassa il collo, rimuvera, riparti, go, vai, 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 ancora, ancora, gira bene le spalle, e, 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 stop, giù in piedi, 8 secondi, l'esercizio, diciamo, con un pochino di posto, il daily press, doppio, e, la lombra in mano, vai, siamo partiti, go, e giù, sali, stendi, vai, ritorna giù, poggia la pancia a terra, giù, sali, stendi, go, vai, giù, sali, e, 20 secondi, vai, go, e, sali, ancora, giù, vai, su, stendi, giù, vai, respira, su, vai, recupera, ok, si riparte subito, vai col secondo, eh, 3, 2, 1, butt is bottom, vai, giù, e, sali, giù, e, sali, siamo al secondo giro, giù, sali, vai, giù, sali, 20 secondi, giù, sali, 15 secondi, giù, sali, 8 secondi, giù, sali, stop, recupera, vai, forza, 3, 2, 1, vai, rematore, e, salgo, cambia, via, sali, giù, cambia, e, giù, cambia, e, giù, cambia, e, giù, cambia, vai, e, giù, cambia, e, giù, cambia, petto in fuori, e, giù, cambia, e, stop, vai, vai, commettiamo il manovrio, 4, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, bicicletta, e, forza, allunga i piedi, vai, via, 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 giù, respira, riparti, go, forza, andiamo, e, dai, 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 vai, giù, respira, forza, riparti, go, andiamo, vai, 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 e, stop, sui piedi, dai, dai, forza, 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 3, 2, 1, vai, siamo partiti, e, giù, sali, e, giù, vai, sali, via, giù, e, sali, giù, vai, sali, giù, vai, sali, giù, sali, vai, 3, 2, 1, stop, terzo, ultimo, giro, forza, ragazzi, 4, 3, 2, 1, vai, giù, bar piece bottom, blocca, giù, vai, blocca, vai, giù, blocca, vai, giù, blocca, vai, giù, blocca, dai, e, giù, blocca, 20 secondi, giù, blocca, 10 secondi, giù, vai, blocca, vai, giù, vai, blocca, 3, 2, 1, vai, rematore, forza, dai che ci siamo, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, vai, cambia, 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 cambia, vai, cambia, vai, cambia, vai, stop, bicicletta, quindi schiena a terra, forza, stiamo lavorando la grande, vai, let's go, vai, vai, gira le spalle, e, 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 forza, giù, respira, vai, riparti, via, 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 vai, let's go, giù, respira, forza, riparti, go, vai, forza, e, stop, vai, 8 secondi, forza, 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 devil press, 3, 2, 1, vai, e, giù, sali, e, stendi, vai, giù, vai, stendi, e, giù, giù, respira, vai, giù, e, vai, ancora, forza, 20 secondi, ragazzi, giù, respira, sali, e, ancora, 8 secondi, giù, vai, vai, e, su, stop, ok, recuperiamo, respiriamo, primo circuito, lo abbiamo terminato, quindi, mini pausa, prendete una bottiglia e bevete un goccio d'acqua, forza, che adesso partiamo con la seconda parte di questa lezione total body, ok, adesso andiamo a fare un tabata workout, quindi, tappetino aperto, andiamo a fare un tabata, quindi, sarà 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero, andiamo a fare 8 round, gli esercizi che andiamo a intercambiare tra l'uno e l'altro, sono barpees over, quindi facciamo il barpees, e via, saltiamo il tappetino, il secondo esercizio che andiamo a fare è un rematore in piedi, quindi andiamo a lavorare la schiena, quindi andiamo a fare un esercizio multiarticolare come esercizio per la schiena, li alterniamo, quindi sarà barpees over, rematore, barpees over, rematore per 8 round, 20-10, ok, siamo pronti per iniziali, primo tabata, un bel respiro, forza ragazzi, scatenatevi sul barpees over, ok, 10 secondi e partiamo, forza, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, go, via, pancia a terra, saltello, giù, e via, su, forza, 10 secondi, e vai, forza, e vai, 3, 2, 1, e su in piedi, 10 secondi di recupero, ora, manubri in mano, andiamo a fare i rematori, 3, 2, 1, va, giù, e su, salvo, forza, go, e mettiamo la schiena, tappi fuori, forza, 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 vai, 4, 3, 2, 1, stop, ok, respira, vai, eh, oggi bel lavoro intenso, 3, 2, 1, go, via, giù, forza, salta, vai, e su, salta, 10 secondi, forza, 3, 2, 1, stop, recupera, bravi, manubri, 8 secondi, 4, 3, 2, 1, go, e vai, e vai, e vai, e vai, ancora, e vai, e stop, giù i manubri, forza, ragazzi, 8 secondi, 4, 3, 2, 1, lasco, e giù, salgo, forza, giù, salgo, vai, 10 secondi, andiamo, e forza, 3, 2, 1, stop, dai, 8 secondi, 3, 2, 1, vai, go, allunga, allunga, forza, allunga, 8 secondi, allunga, la schiena, la schiena, la schiena, stop, giù, l'ultimo, gli ultimi due round, quindi il battistone, il rematore, l'abbiamo fatto, 3, 2, 1, vai, e giù, sali, go, forza, forza, e sali, 4 secondi, go, vai, stop, respira, forza, forza, 4, 3, 2, 1, e via, vai, allunga, 8 secondi, 4, 3, 2, 1, stop, recuperiamo, forza, respiriamo, ci diamo il workout, con un po' gli addominali, forza, forza, come state? Spero bene, lasciate un commento sempre sotto il video, è importante, ragazzi e ragazze, ve lo chiedo proprio perché mi aiuta a portare più contenuti, perché so che dall'altra parte ci siete voi, che tantissime persone fanno gli allenamenti, ma senza scrivere niente, mai, non so se mi allenate veramente, quindi lasciate sempre un commento sotto il video e partiamo con i nostri addominali finali, 8 secondi, forza, 3, 2, 1, vai, go, all'interno, ci sono state le anghiie, ospiti un po' gli allenamento da un'occhio online in unico e tutti il video e Vieni Vieni Go, let's go Vieni Via Vieni 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 E stop e recuperate ora gambe giù verso il cielo e andiamo a toccare prima la gamba sinistra e poi la gamba destra 3, 2, 1 vai go forza e sali vai, respira go ancora, 40 secondi e respira e 30 secondi vai, più veloci forza e vai respira 20 secondi ci siamo ancora, ancora, ancora 10 secondi forza 3, 2, 1 stop recupera ora tux up alternato da respiro e 3, 2, 1 3, 2, 1 let's go chiudi un po' 1, 2, 1, 1 2, 1, 2, 1 vengono a dire i fessi di fare o e di là e 20 secondi e stop recupera ok ragazzi io vi ringrazio oggi siamo fatti questo allenamento completo in una tensione in alta intensità presto usciranno tantissimi workout qui sul canale quindi rimanete aggiornati attivate la campanella porterò anche i contenuti sull'alimentazione sull'integrazione avete visto anche l'ultimo video che ho fatto presidente dove ho parlato secondo me della barretta migliore che ci sta in commercio quindi andate a vedere anche quel video se ve lo siete persi noi ci vediamo nel prossimo workout lo sport ci salva la vita ci la migliora ciao ragazzi un saluto da Alessandro Sports of the Life 3, 2, 1 let's go vai con la sigla in your flight I show my bite on your flight I show you sight what it takes is for the snakes on my flight I give you light on my beats on my treats I show you sight I show you sight I show you sight I show you sight